Un morto, che pure è un morto, caro mio, vuole anche lui la sua casa. E se è un morto per bene, bella la vuole, e ha ragione, da starci comodo e di marmo la vuole, e decorata anche, e se poi è un morto che può spendere, la vuole anche con qualche profonda, come si dice, allegoria già, con qualche profonda allegoria ad un grande scultore come me. Una bella lapide latina, ic, jacet, chi fu, chi non fu, un bel giardinetto attorno, con l'insalatina e tutto, è una bella cancellata a riparo dei cani e dei... «Ma è seccato!» urlò, voltandosi tutto acceso e in sudore Costantino Pogliani. Ciro Colli levò la testa dal petto, con la barbetta a punta ridotto ormai un gancio, a furia di torcersela. Stette un pezzo a sbirciare l'amico di sotto al cappelluccio a pan di zucchero calato sul naso. E con placidissima convinzione disse, quasi posando la parola, «Asino!» «Là!» Stava seduto sulla schiena, le gambe lunghe distese, una qua, una là, sul tappettino che Pogliani aveva già bastonato ben bene e messo in ordine innanzi al canapè. Si struggeva dall'astizza il Pogliani nel vederlo sdraiato lì, mentre gli safannava tanto a rassettare lo studio, disponendo i gessi, in modo che facessero bella figura, buttando indietro i bozzettacci ingialliti e polverosi che gli erano ritornati sconfitti dai concorsi, portando avanti con precauzione i cavalletti coi lavori che avrebbe potuto mostrare, nascosti ora da pezze bagnate. E sbuffava. «Insomma, te ne vai il sì o no?» «No, non mi sedere lì sul pulito, almeno, santo Dio! Come te lo devo dire? Che aspetto certe signore!» «Non ci credo. Ecco qua la lettera. Guarda, l'ho ricevuta ieri dal commendator Seralli. Egregio amico, l'avverto che domani mattina verso le undici... Sono già le undici? Passate! Non ci credo, seguita. Verranno a trovarla indirizzate da me la signora con... Come si dice qua? Confucio? Con... o con Salvi? Non si legge bene. E la figliuola, le quali hanno bisogno dell'opera sua. Sicuro che... eccetera eccetera. «Non te la sei scritta da te, ecco testa lettera?» domandò Ciro Colli, riabbassando la testa sul petto. «Imbecille!» esclamò. Gemette Quagil, Pogliani che nell'esasperazione non sapeva più se piangere o ridere. I Colli alzò un dito e fece il segno di no. «Non me lo dire, meno per male. Perché, se fossi imbecille, ma sai che per soncina per la quale sarei io, guarderei la gente come per compassione. Ma in vestito, ma in calzato, con una bella cravatta, Elio Pro, Elio Pro, come si dice? Troppio! E il panciotto di velluto nero come il tuo! Ah, quanto mi piacerei col panciotto di velluto come il tuo, scannato miserabile che non sono altro! Senti, facciamo così. Per il tuo bene. Se è vero che codeste signore Confucio debbono venire, rimettiamo in disordine lo studio, o si faranno pessimo concetto di te. Sarebbe meglio che ti trovassero anche intento al lavoro, col sudore, come si dice? Col pane! Insomma, col sudore del pane della tua fronte. Piglia un bel tocco di creta, schiaffalo su un cavalletto, e comincia alla brava un bozzettuccio di me così sdraiato. Lo intitolerai Lottando, e vedrai che te lo comprano subito per la Galleria Nazionale. Ho le scarpe, sì, non tanto nuove, ma tu, se vuoi, puoi farmele anche nuovissime, perché come scultore, non te lo dico per adularti, sei un bravo calzolaio. Costantino Pogliani, intento ad appendere alla parete certi cartoni, non gli badava più. Per lui, il colli era un disgraziato fuori della vita, ostinato superstite d'un tempo già tramontato, d'una moda già smessa tra gli artisti. Sciammanato, inculto, non curante, e con l'ozio ormai incarognito nelle ossa. Peccato veramente, perché poi, quando era in tempera di lavorare, poteva dar punti ai migliori. E lui, il Pogliani, ne sapeva qualche cosa, che tante volte lì nello studio, con due tocchi di pollice impressi con energica sprezzatura, sarebbe dovuto metter su ad un tratto qualche bozzetto che gli cascava dallo stento. Ma avrebbe dovuto studiare almeno un po' di storia dell'arte, ecco. Regolar la propria vita, avere un po' di cura della persona. Così cascante di noia, e con tutta quella trucia addosso, era inaccostabile, via! Lui, il Pogliani. Ma già, lui aveva fatto fin anche due anni di università. E poi, signore, campava del suo, si vedeva. Due discreti picchi alla porta lo fecero saltare dallo scabello su cui era montato per appendere i cartoni. Eccole. E adesso, disse al Colli mostrandogli le pugna, loro entrano, io me ne esco, rispose il Colli senza levarsi. Ne stai facendo un caso pontificale? Del resto potresti anche presentarmi, pezzo d'egoista. Costantino Pogliani corse ad aprire la porta, rassettandosi sulla fronte il bel ciuffo biondo riccioluto. Prima entrò la signora Consalvi, poi la figliuola. Questa è in gramaglie, col volto nascosto da un fitto velo di crespo e con in mano un lungo rotolo di carta. Quella vestita d'un bell'abito grigio chiaro, che le stava a pennello sulla persona formosa. Grigi i capelli, giovanilmente acconciati sotto un grazioso cappellino tutto contesto di violette. La signora Consalvi dava a vedere chiaramente che si sapeva ancora fresca e bella a dispetto dell'età. Poco dopo, sollevando il crespo sul cappello, non meno bella, si rivelò la figliuola, quantunque pallida e dimessa nel chiuso cordoglio. Dopo i primi convenevoli, il Pogliani si vide costretto a presentare il Colli, che era rimasto lì con le mani in tasca e mezza sigaretta spenta in bocca, il cappelluccio ancora sul naso e non accennava ad andarsene. «Scultore?» domandò allora la signorina Consalvi, invermigliandosi di un subito per la sorpresa. «Colli, Ciro?» «Codicillo, già!» rispose questi impostandosi sull'attenti, togliendosi il cappelluccio e scoprendo le folte ciglia giunte e gli occhi accostati al naso. «Scultore?» «Perché no?» «Anche scultore!» «Ma mi avevano detto, ripresa impacciata, contrariata alla signorina Consalvi, che lei non stava più a Roma. Ecco già! Io, come si dice?» «Passeggio!» rispose il Colli. «Passeggio per il mondo, signorina!» Stavo prima ozioso, fisso a Roma, perché avevo vinto la cuccagna, il pensionato. Poi la signorina Consalvi guardò la madre che rideva e disse «Come si fa?» «Però andare via?» domandò il Colli. «No, no, al contrario!» soffrettò a rispondere la signorina. «La prego anzi di rimanere, perché...» «Combinazioni!» esclamò la madre, poi rivolgendosi al Pogliani. «Ma si rimedierà in qualche modo. Loro sono amici, non è vero?» «Amicissimi!» rispose subito il Pogliani. «Mi voleva cazzar via pedate un momento fa, figuri!» «E sta zitto!» gli diede sulla voce il Pogliani. «Prego, signorina mia, si accomodino!» «De che si tratta?» «Ecco», cominciò la signora Consalvi, sedendo. «La mia povera figliuola ha avuto la sciagura di perdere improvvisamente il fidanzato.» «Ah sì?» «Oh, è terribile!» «Proprio alla vigilia delle nozze si figurino per un accidente di caccia. Forse l'avranno letto sui giornali. Giulio Sorini.» «Ah, Sorini, già!» disse il Pogliani. «Che gli esplose il fucile.» «Si primi del mese scorso.» «Cioè no, l'altro.» «Insomma, fanno ora tre mesi.» «Il poverino era un po' nostro parente, figlio di un mio cugino che se ne andò in America dopo l'aborte della moglie.» «Ora, ora, ecco, Giulietta.» «Perché si chiama Giulia anche lei.» «Un bell'inchino da parte del Pogliani.» «Giulietta», seguitò la madre, «avrebbe pensato di innalzare un monumento nel verano alla memoria del fidanzato che si trova provvisoriamente in un loculo riservato. e avrebbe pensato di farlo in un certo modo perché lei, mia figlia, ha avuto sempre veramente una grande passione per il disegno.» «No, così, interruppe timida con gli occhi bassi la signorina in gramaglie.» «Per passatempo, ecco.» «Scusa, se il povero Giulio voleva anzi che prendessi lezioni.» «Mamma, ti prego», insiste la signorina. «Io ho veduto in una rivista illustrata il disegno d'un monumento funerario del signore qua, del signor Colli, che mi ha molto piaciuto e, ecco già, appoggiò la madre per venire in aiuto alla figliuola che si smarriva. Però, soggiunse questa con qualche modificazione, l'avrei pensato io.» «Scusi, qual è?» domandò il Colli. «Ne ho fatti parecchi, io, di questi disegni con la speranza di avere almeno qualche commissione dai morti, visto che dai vivi.» «Eh, scusi, signorina.» interroqui il Pogliani. «Un po' piccato nel vedersi messo così da parte, ha ideato un monumento su qualche disegno del mio amico.» «No, proprio uguale.» «No.» «Ecco.» rispose vivacemente la signorina. «Il disegno del signor Colli rappresenta la morte che attira la vita, se non sbaglio.» «Ah, ho capito.» esclamò il Colli. «Uno scheletro con lenzuolo, è vero?» che si indovina appena, rigido, tra le pieghe e ghermisce la vita. Un bel tocco di figliuola che non ne vuol sapere. «Sì, sì, bravissimo! Magnifico! Ho capito.» La signora Consalvi non poteva tenersi di ridere di nuovo, ammirando la sfacciataggine di quel tipo. «Modesto, sa?» disse il Pogliani alla signora. «Genere particolare.» «Su, Giulia!» fece la signora Consalvi levandosi. «Forse è meglio che ti faccia vedere senz'altro il disegno.» «Aspetta, mamma!» pregò la signorina. «È bene spiegarsi prima col signor Pogliani, francamente.» «Quando mi nacque l'idea del monumento, devo confessare che pensai subito al signor Colli, sì, per via di quel disegno.» Ma mi dissero, ripeto, che lei non stava più a Roma. Allora mi ingegnai ad adattare da me il suo disegno all'idea e al sentimento mio, a trasformarlo, cioè, in modo che potesse rappresentare il mio caso e il proposito mio. «Mi spiego?» «A meraviglia!» approvò il Pogliani.» «Lasciai», seguitò la signorina, «le due figurazioni della morte e della vita, ma togliendo affatto la violenza dell'aggressione, ecco, la morte non germisce più la vita, ma questa anzi volentieri, rassegnata al destino, si sposa alla morte.» «Si sposa?» fece il Pogliani frastornato. «Alla morte?» gli gridò il Colli. «Lascia dire!» «Alla morte», ripetei con un modesto sorriso la signorina, e ho voluto anzi rappresentare chiaramente il simbolo delle nozze. Lo scheletro sta rigido come ha disegnato il signor Colli, ma tra le pieghe del funebre paludamento viene fuori appena una mano che regge l'anello nuziale. La vita, in atto modesto e dimesso, si stringe accanto allo scheletro e tende la mano a ricevere quell'anello. «Bellissimo! Magnifico! lo vedo!» proruppe allora il Colli. «Questa è un'altra idea stupenda, un'altra cosa diversissima, stupenda! L'anello, il dito, magnifico!» Ecco, sì, sopraggiunce la signorina infermigliandosi di nuovo a quella lode impetuosa. «Credo anch'io che sia un po' diversa, ma è innegabile che ho tratto partito dal disegno e che... «Ma non se ne faccia scrupolo!» esclamò il Colli. «La sua idea è molto più bella della mia ed è sua! Dal resto la mia chissà di chi era!» La signora Consalvi alzò le spalle e abbassò gli occhi. «Se devo dire la verità, interloquì la madre scuotendosi, lascio fare la mia figliuola, ma a me l'idea non piace per nientissimo affatto!» «Mamma, ti prego!» ripetei la figlia, poi volgendosi al Pogliani riprese. «Ora, ecco, io domandai consiglio al commentator Seralli, nostro buonamore, che doveva fare da testimonio alle nozze!» aggiunse la madre sospirando. «E avendoci il commendatore fatto il nome di lei, seguitò l'altra, siamo venute per...» «No, no, scusi, signorina!» si affrettò a dire il Pogliani. «Poiché lei ha trovato qua il mio amico, oh, fa il piacere, non mi seccare!» proruppe il Colli scrollandosi furiosamente e avviandosi per uscire. Il Pogliani lo trattenne per un braccio, a viva forza. «No, guarda, scusa, se la signorina non ha inteso, sta rivolta a me perché ti sapeva fuori Roma!» «Ma si è cambiato tutto!» esclamò il Colli divincolandosi. «Lasciami! Che centro io?» «Lasciami! Lasciami! Che centro più io?» «È venuta qua da te!» «Scusi, signorina! Scusi, signora! Io le riverisco!» «Oh, sai!» disse il Pogliani risoluto senza lasciarlo. «Io non lo faccio! Non lo farai neanche tu e non lo farà nessuno dei due!» «Ma scusino!» «Insieme!» propusse allora la madre. «Non potrebbero! Insieme!» «Sono dolente di aver cagionato!» si provò ad aggiungere la signorina. «Ma no!» dissero ad un tempo il Colli e il Pogliani. Seguitò il Colli. «Io non centro più per nulla, signorina!» «E poi, guardi, non ho più studio! Non so più concluder nulla!» «Altro che dire male parole a tutti quanti!» «Lei deve assolutamente costringere quest'imbecille qua!» «È inutile, sai!» disse il Pogliani. «O insieme, come propone la signora, o io non accetto!» «Permettete, signorina!» fece allora il Colli, stendendo una mano verso il rotolo di carta che la teneva accanto sul canapè. «Mi muoio dal desiderio di vedere il suo disegno!» «Quando l'avrò veduto?» «Oh, non si immagini nulla di straordinario, per carità!» premise la signorina con salvi, svolgendo con le mani tremolanti il rotolo. «So tenere appena la matita!» «Ho buttato giù quattro segnacci tanto per rendere l'idea!» «Ecco!» «Vestita?» esclamò subito il Colli come se avesse ricevuto un urtone guardando il disegno. «Come?» «Vestita?» domandò timida e ansiosa la signorina. «Ma no, scusi!» riprese con calore il Colli. «Lei ha fatto la vita in camicia, cioè con la tunica, diciamo!» «Ma no! nuda, nuda, nuda! La vita! Deve essere nuda, signorina mia! Che c'entra?» «Scusi!» disse con gli occhi bassi la signorina con salvi. «Ma prego di guardare più attentamente!» «Ma sì, vedo!» replicò con maggior vivacità il Colli. «Lei ha voluto raffigurarsi qua! Ha voluto fare il suo ritratto!» «Ma lasciamo andare che lei è molto più bella!» «Quà siamo nel campo!» «Nel campo santo dell'arte, scusi!» «E questa vuole essere la vita che si sposa alla morte!» «Ora, se lo scheletro è panneggiato, la vita deve essere nuda!» «C'è poco da dire!» «Tutta nuda e bellissima, signorina!» «Per compensare col contrasto la presenza macapla dello scheletro in volto!» «Nuda, Apogliani, non ti pare!» «Nuda, è vero, signora?» «Tutta nuda, signorina mia!» «Nudissima dal capo alle piante!» «Creda pure che altrimenti così verrebbe una scena da ospedale!» «Quello con l'enzuolo, questa con l'accappatoio!» «Dobbiamo fare scultura!» «Non c'è ragioni che tengano!» «No, no, scusi!» disse la signorina con Salvi alzandosi con la madre. «Lei avrà forse ragione dal lato dell'arte, non nego!» «Ma io voglio dire qualche cosa che soltanto così potrei esprimere!» «Facendo come vorrebbe lei, dovrei rinunciarvi!» «Ma perché, scusi?» «Perché lei vede qua la sua persona e non il simbolo!» «Ecco!» «Dire che sia bello, scusi, non si potrebbe dire!» «E la signorina?» «Niente bello, lo so!» «Ma appunto come dice lei, non il simbolo ho voluto rappresentare!» «Ma la mia persona, il mio caso, la mia intenzione e non potrei che così!» «Penso poi anche al luogo dove il monumento dovrà sorgere!» «Insomma, non potrei transigere!» Il colli aprì le braccia e si insaccò nelle spalle. «Opignioni!» O piuttosto corresse la signorina con un dolce mestissimo sorriso un sentimento da rispettare. Stabilirono che i due amici si sarebbero intesi per tutto il resto col commentator Serali e poco dopo la signora Consalvi e la figliuola in gramaglie tolsero con miato. Cirocolli, due passetti, trallallero, trallallà, girò sopra un calcagno e si fregò le mani. Circa una settimana dopo Costantino Pogliani si recò in casa di Consalvi per invitarla la signorina a qualche seduta per l'abbozzo della testa. Del commentator Serali, amico molto intimo della signora Consalvi, aveva saputo che il Sorini, sopravvissuto tre giorni all'usciagurato accidente, aveva lasciato alla fidanzata tutta intera la cospicua fortuna ereditata dal padre e che però quel monumento doveva essere fatto senza badare a spese. E poi se, sarà dichiarato il commentator Serali delle cure, dei pensieri, delle noie che gli erano diluviati da quella sciagura. Noie, cure, pensieri aggravati dal caratterino un po' importevole della signorina Consalvi, la quale, sì, poverina, meritava veramente compatimento, ma pareva, buon Dio, si compiacesse troppo nel rendersi più grave la pena. Oh, uno gioco orribile, chi diceva di no? Un vero fulmine a ciel sereno. E' tanto buono lui, il Sorini, poveretto, anche un bel giovane, sì, e innamoratissimo. L'avrebbe resa felice senza dubbio quella figliuola. E forse per questo era morto. Pareva anche fosse morto e fosse stato tanto buono per accrescere le noie del commendator Serali. Ma figurarsi che la signorina non aveva voluto disfarsi della casa, che egli, il fidanzato, aveva già messa su di tutto punto. Un vero nido, un joli rêve deluxe e de bien-être. Ella gli aveva portato tutto il suo bel corredo da sposa e stava lì gran parte del giorno, non a piangere, no, a straziarsi, fantasticando intorno alla sua vita da sposina così miseramente stroncata. Arranché! di fatti il Pogliani non trovò in casa la signorina Gonsalvi. La cameriera gli dè dell'indirizzo della casa nuova in via di Porta Pinciana e Costantino Pogliani andando si mise a pensare all'angosciosa amarissima volutà che doveva provare quella povera sposina già vedova prima che maritata facendosi nel sogno lì quasi attuato di una vita che il destino non aveva voluto farle vivere. Tutti quei mobili nuovi scelti chissà con quanta cura amorosa da entrambi gli sposini e festivamente disposti in quella casa che tra pochi giorni doveva essere abitata. Quante promesse chiudevano! Riponi in uno stipetto un desiderio aprilo vi troverai un disinganno ma lì no tutti quegli oggetti avrebbero custodito con le dolci lusinghe i desideri e le promesse e le speranze e come dovevano essere crudeli gli inviti che venivano alla sposina da quelle cose intatte attorno. In un giorno come questo sospirò Costantino Pogliani si sentiva già nella limpida freschezza dell'aria l'alito della primavera imminente e il primo tepore del sole inebriava. La casa nuova con le finestre aperte a quel sole povera signolina Consalvi chissà che sogni e che strazio la trovò che disegnava innanzi a un cavalletto il ritratto del fidanzato. Con molta timidezza lo ritraeva ingrandito da una fotografia di piccolo formato mentre la madre per ingannare il tempo leggeva un romanzo francese della biblioteca del commentator Seralli. Veramente la signolina Consalvi avrebbe voluto star sola lì in quel suo nido mancato. La presenza della madre la frastornava ma questa temendo fra sé che la figliuola nell'esaltazione si lasciasse andare a qualche atto di romantica disperazione voleva seguirla e star lì gonfiando in silenzio e sforzandosi di frenargli sbuffi per quell'ostinato capriccio intollerabile. Rimasta vedova giovanissima senza assegnamenti con quell'unica figliuola la signora Consalvi non aveva potuto chiudere le porte alla vita e porvi il dolore per sentinella come ora pareva volesse fare la figliuola. Non diceva già che Giulietta non dovesse piangere per quella sua sorte crudele ma credeva come il suo intimo amico commendator Seralli credeva che ecco si si esagerasse un po' troppo e che avvalendosi della ricchezza che il povero morto le aveva lasciata volesse concedersi il lusso di quel cordoglio smodato. Conoscendo purtroppo le crude odiose difficoltà dell'esistenza le forche sotto alle quali ella ancora addolorata per la morte del marito era dovuta passare per campare la vita e pareva molto facile quel cordoglio della figliuola e le sue gravi esperienze glielo facevano stimare quasi una leggerezza scusabile sì certamente ma a patto che non durasse troppo voilà come diceva sempre nel mondo aveva già più di una volta cercato di richiamare alla giusta misura la figliuola in vano troppo fantastica la sua Giulietta aveva forse più che il sentimento del proprio dolore l'idea di esso e questo era un gran guaio perché il sentimento col tempo si sarebbe per forza e senza dubbio affievolito mentre l'idea no l'idea sarà fissata e le faceva commettere certe stranezze come quella del monumento funerario con la vita che si marita alla morte bel matrimonio e quest'altra della casa nuziale da serbare intatta per custodirvi il sogno quasi attuato di una vita non potuta vivere fu molto grata la signora consalvia al pogliani di questa visita le finestre erano aperte veramente al sole e la magnifica pineta di villa borghese sopra l'abbagliamento della luce che pareva stagnasse sui vasti prati verdi sorgeva alta e respirava felice nel tenero limpidissimo azzurro del cielo primaverile subito la signorina consalvia accennò di nascondere il disegno alzandosi ma il pogliani la trattenne con dolce violenza perché non vuol lasciarmi vedere è appena cominciato ma ha cominciato benissimo esclamò egli chinandosi a osservare ah benissimo lui è vero il sorini già ora mi pare di ricordarmi bene guardando il ritratto sì sì l'ho conosciuto ma aveva questa barbetta no si affrettò a rispondere la signorina non l'aveva più ultimamente ecco mi pareva un bel giovane bel giovane non so come fare riprese la signorina perché questo ritratto non risponde non è più veramente l'immagine che ho di lui in me eh sì riconobbe subito il pogliani meglio lui molto più più animato ecco più sveglio direi se l'era fatto in america con questo ritratto osservò la madre prima che si fidanzasse naturalmente e non ne ho altri sospirò la signorina guardi chiudo gli occhi così e lo vedo preciso come era ultimamente ma appena mi metto a ritrarlo non lo vedo più guardo allora il ritratto e lì per lì mi pare che sia lui vivo mi provo a disegnare e non lo ritrovo più in questi lineamenti è una disperazione ma guarda Giulia riprese allora la madre con gli occhi fissi sul pogliani tu dicevi la linea del mento volendo levare la barba non ti pare che qua nel mento il signor pogliani questi arrossì sorrise quasi senza vederlo alzò il mento lo presentò come se con due dita delicatamente la signorina glielo dovesse prendere per metterlo lì nel ritratto del sorini la signorina levò appena gli occhi a guardarglielo timida e turbata non aveva proprio alcun riguardo per il suo lutto la madre e anche i baffi oh guarda aggiunse la signora con salvi senza farlo apposta riportava così ultimamente il povero Giulio non ti pare ma i baffi disse urtata la signorina che vuoi che siano non ci vuol niente a farli Costantino Pogliani istintivamente se li toccò sorrise di nuovo confermò niente già si accosta quindi al cavalletto e disse guardi se mi permette vorrei farle vedere signorina così in due tratti qua non si incomodi per carità qua in quest'angolo poi si cancella come ho ricordo il povero Sorini sedette e si mise a schizzare con l'aiuto della fotografia la testa del fidanzato mentre dalle labbra della signorina con salvi che seguiva i rapidi tocchi con crescente esultanza di tutta l'anima protesa espirante scattavano di tratto in tratto certi sì 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 che animavano e quasi guidavano la matita alla fine non potei più trattenere la propria commozione oh guarda mamma è lui preciso lasci grazie che felicità a poter così è perfetto è perfetto un po' di pratica disse levandosi il Pogliani con umiltà che lasciava trasparire il piacere per quelle vivissime lodi e poi le dico lo ricordo tanto bene povero Sorini la signorina con salvi rimase a rimirare il disegno insaziabilmente il mento sì è questo preciso grazie grazie in quel punto retato del Sorini che serviva da modello scivolò dal cavalletto e la signorina ancora tutta animata nello schizzo del Pogliani non si chinò a raccoglierlo lì per terra quell'immagine già un po' sbiadita apparve più che mai malinconica come se comprendesse che non si sarebbe rialzata mai più ma si chinò a raccoglierla il Pogliani cavallerescamente grazie gli disse la signorina ma io adesso mi servirò del suo disegno sa non lo guarderò più questo brutto ritratto ed improvviso levando gli occhi le sembrò che la stanza fosse più luminosa come se quello scatto d'ammirazione le avesse a un tratto snebbiato il petto da tanto tempo oppresso aspirò con ebbrezza beve con l'anima quella luce ilare viva che entrava dall'ampia finestra aperta all'incantevole spettacolo della magnifica villa avvolta nel fascino primaverile fu un attimo la signorina con salvi non poteva spiegarsi che cosa veramente fosse avvenuto in lei ebbe l'impressione improvvisa di sentirsi come nuova fra tutte quelle cose nuove attorno nuova e libera senza più l'incubo che l'aveva soffocata fino a poc'anzi un alito qualche cosa era entrata con impeto da quella finestra a sommuovere tumultuosamente in lei tutti i sentimenti a infondere quasi un brillio di vita in tutti quegli oggetti nuovi a cui ella aveva voluto appunto negare la vita lasciandoli intatti lì come a vegliare con lei la morte di un sogno e udendo il giovane elegantissimo scultore con dolce voce lodare la bellezza di quella vista e della casa conversando con la madre che lo invitava a vedere le altre stanze seguì l'uno e l'altra con uno strano turbamento come se quel giovane quell'estraneo stesse davvero per penetrare in quel suo sogno morto per rianimarlo fu così forte questa nuova impressione che non poteva arcar la soglia della camera da letto e vedendo il giovane e la madre scambiarsi lì un mesto sguardo di intelligenza non pote più reggere scoppiò in singhiozzi e pianse sì pianse ancora per la stessa cagione per cui tutte le altre volte aveva pianto ma avvertì confusamente che tuttavia quel pianto era diverso che il suono di quei suoi singhiozzi non le destava dentro l'eco del dolore antico le immagini che prima le si presentavano e meglio lo avvertì allora che la madre a corsa prese a confortarla come tant'altre volte l'aveva confortata usando le stesse parole le stesse esortazioni non poté tollerarle fece un violento sforzo su se stessa smise di piangere e fu grata al giovane che per distrarla la pregava di fargli vedere la cartella dei disegni scorta lì su una sedia a libricino lodi lodi smisurate e sincere e appunti osservazioni domande che la indussero a spiegare a discutere e infine un'esortazione calda studiare a seguire con fervore quella sua disposizione all'arte veramente non comune sarebbe stato un peccato un vero peccato non sarà mai provata a trattare i colori mai mai e perché non ci sarebbe mica voluto molto con quella preparazione con quella passione Costantino Pogliani si profferse di iniziarla la signorina Consalvi accettò e le lezioni cominciarono dal giorno appresso lì nella casa nuova che invitava e attendeva non più di due mesi dopo nello studio del Pogliani ingombro già ad un colossale monumento funerario tutto abbozzato alla brava Ciro Colli sdraiato sul canapè col vecchio camice di tela stretto fra le gambe fumava la pipa e teneva uno strano discorso allo scheletro fissato dritto sulla predellina nera che si era fatto prestare per modello da un suo amico dottore gli aveva posato un po' a sghembo sul teschio il suo berretto di carta e lo scheletro pareva un fantaccino sull'attenti ad ascoltare la lezione che Ciro Colli scultore caporale tra uno sbuffo e l'altro di fumo gli impartiva e tu perché te ne sei andato a caccia vedi come ti sei conciato caro mio brutto le gambe secche tutto secco diciamo la verità ti pare che con questo matrimonio si possa combinare la vita caro guardala là ma che tocco di figliolona senza risparmio mi è uscita dalle mani ti puoi sul serio lusingare che quella ti voglia sposare ti sei accostata timida e dimessa lacrime giù a fontana ma mica per ricevere l'anello nuziale levatolo dal capo spendola caro spendola giù la borsa gliel'hai data e ora che vuoi da me inutile dire se me lo credevo povero mondo e chi ci crede si è messa a studiare pittura la vita e il suo maestro sai chi è Costantino Pogliani scherzo che passa la parte diciamo la verità se fossi in te caro mio lo sfiderei hai sentito stamane ordine positivo non vuole mi proibisce assolutamente che io la faccia nuda eppure lui per quanto sommaro scultore è e sa bene che per vestirla bisogna prima farla nuda ma te lo spiego io il fatto com'è non vuole che si veda su quel nudo là meraviglioso il volto della signorina è salito lassù hai visto su tutte le furie e con due colpi di stecca taf taf me l'ha tutto guastato sai dirmi perché fantaccino mio gli ho gridato lascia te la vesto subito te la vesto ma che vestire nuda la vogliono ora la vita nuda nuda e cruda com'è caro mio sono tornati al mio primo disegno al simbolo via il ritratto tu che ghermisci bello mio è lei che non ne vuol sapere ma perché te ne sei andato a caccia me lo dici è lei che non ne vuol sapere